Cambiamo ancora argomento, la cerca e cavatura del tartufo è candidata a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Il progetto coinvolge anche il paese di San Pietro Avellana. Una buona notizia per il territorio molisano. Il consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha approvato la proposta di candidatura a patrimonio culturale immateriale della cerca e cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali. Un percorso che coinvolge in prima linea la Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai e l'Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui fa parte anche il Comune di San Pietro Avellana, paese che dopo tanto lavoro vede la conquista di un nuovo importante obiettivo, con l'auspicio che arrivi a tagliare il traguardo finale. Il verdetto ci sarà nel 2021, una notizia che giunge in un momento complicato per la storia d'Italia. La soddisfazione è grande, commenta Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana e vicepresidente dell'Associazione Città del Tartufo. Per il territorio altomolisano, che come riserva MAB della biosfera gode già di un riconoscimento UNESCO, la candidatura internazionale relativa al tartufo, qualora venga definitivamente accettata, è un grande onore. Soprattutto perché da anni si lavora per la valorizzazione del tartufo di San Pietro Avellana e del territorio. È una iniezione di fiducia che ci fa sperare in un momento così difficile. La candidatura è nata da un'idea di Giacomo Odero, già presidente del Centro Studi Tartufo di Alba. Grazie allo studio dei professori Piercarlo Grimaldi e Gianfranco Molteni, la comunità proponente ha potuto elaborare un progetto volto alla documentazione di una tradizione secolare.